Ragazzi abbiamo una squadra, e sì perché il Piacenza visto contro il Caldiero non è neanche lontano parente di quello visto nelle ultime partite della gestione Maccarone. Rossini è riuscito a dare in poco tempo un'anima a un gioco di una squadra che prima aveva poco di tutto questo, sinceramente molto meglio delle mie più rose previsioni. La vittoria contro i Veneti è stata sofferta, peraltro loro hanno dimostrato di meritare la classifica, ma decisamente meritata per una squadra che ha dimostrato unione e anche qualità di gioco, partendo sempre e comunque dal basso. Andiamo con ordine. Rossini conferma a sinistra, Artioli basso e Bassanini alto, ma se a Ponte San Pietro è una necessità, qui è una scelta, quindi una conferma per i due di sinistra. Il resto sono gli stessi della scorsa vittoria con Facundo Marquez davanti al posto di Roma. Il Piacenza inicia molto bene con delle buone trame e arriva al gol sull'asse Kernezzo d'Agostino. Un Piacenza che non arretra, continua a giocare, ma dall'altra parte c'è una squadra che ha grande qualità e quando va sugli esterni mette dentro dei palloni molto pericolosi. Nella ripresa ancora meglio il Piacenza, arriva vicino al gol, ma poi al Caldiero su una bella azione da calcio d'angolo, una bella azione manovrata con i centimetri che ha a trovare il gol del pareggio. Il Piacenza non ci sta, si butta tutto in avanti, il Caldiero rimane in dieci e Piacenza ancora con D'Agostino. Finalmente nel suo ruolo riesce a trovare il gol della vittoria, a mantenerlo fino alla fine. Insomma, siamo completamente un'altra squadra, anche quelli entrati alla fine come Castro hanno dimostrato di aver capito qual è l'idea di gruppo, qual è l'idea di gioco. Insomma, la barca va in una direzione che è completamente diversa. Adesso è ancora molto lunga, c'è tanto spazio da recuperare, ma questa squadra può farcela.